Luca è responsabile per il mercato italiano di SiteGround, dove si occupa principalmente delle attività di marketing e sviluppo di business. Oggi ci parlerà di uno degli argomenti a cui lui tiene molto, che è l'affiliate marketing. Mi lascio nelle mani di Luca. Grazie, grazie mille. Allora, arduo compito perché siamo alla fine della giornata, che spero sia stata produttiva per tutti, interessante e soprattutto sono in competizione con altri talk interessantissimo. Allora, io oggi parlo di affiliate marketing per due motivi. Intanto perché me ne occupo in SiteGround e in secondo luogo perché è un canale, l'affiliate marketing in SiteGround va fortissimo. Per chi non conosce SiteGround noi siamo uno steam provider a livello globale e tra le varie cose per cui noi siamo famosi è per l'appunto il fatto che siamo forti nell'affiliazione. L'affiliazione è uno strumento che io porto e tratto in Italia in diversi eventi e è sempre difficile parlare di affiliazione in Italia perché in generale, e lo vediamo tutti i giorni noi come SiteGround, abbiamo un sacco di persone che ci guardano male, lo precipiscono nel modo sbagliato perché vedono l'affiliazione come una mercificazione totale dove sostanzialmente la critica che viene fatta è, beh, è facile fare clienti con l'affiliazione perché voi pagate per avere clienti. E voglio un po' sfatare questo mito è far vedere per chi si sta approcciando all'affiliate marketing o per chi non l'ha mai fatto cosa si può fare per avvicinarsi e cominciare a guadagnare online sostanzialmente utilizzando una leva di marketing che non solo lecita, perché c'è gente che dice che forse non lo è, ma è soprattutto fruttifera. Io sono Luca Rodino, ci siamo già presentati, questa è la mia faccia. Allora, come dicevo è importante parlare di affiliate marketing perché innanzitutto è una strategia che io definisco win-win, ossia una strategia che permette a tutti di vincere, permette di vincere l'affiliato, permette di vincere l'azienda che fa affiliazione. Io sostanzialmente acquisisco clienti come azienda, tu come affiliato guadagni soldi. Oggi vediamo quelle che sono le due facce dell'affiliazione, ossia da una parte c'è gente tra di voi che è un privato, è un professionista o ha un'azienda e potrebbe essere interessato ad attivare una campagna o un sistema di affiliazione e quindi potreste guadagnare soprattutto lead da questo. Dall'altra parte potreste essere interessati a non imbastire quello che è una campagna di affiliazione ma diventare affiliati, il che vuol dire, detta in parole povere, guadagnare tramite un nuovo canale di vendita che si crea sostanzialmente dal zero. Partiamo con la creazione di un programma affiliati che è quella un po' più complessa. La creazione di un programma affiliati può avvenire sia che siate una mega multinazionale sia che siate un professionista. Esistono diversi modi per attivare campagne e programmi affiliati. Io ho racchiuso quelli che sono i tre motivi per i quali si dovrebbe iniziare a fare campagne affiliati. Non è obbligatorio, come dicevo ci sono due lati, due facce della medaglia. Da una parte potreste iniziare un programma di affiliazione e dall'altra essere affiliati o fare entrambi. Sitegram fa entrambi per esempio. L'importante se si vuole aprire un programma affiliati è tenere conto di questi tre elementi. Perché devo aprire un programma di affiliazione sul mio sito se ho un blog, se ho anche un e-commerce? Perché intanto genero lead, perché è migliora ovviamente la brand awareness perché in sostanza ho persone che parlano del mio brand. E ultimo ma non meno importante, anzi forse il più importante, perché aumento le vendite, ma non i guadagni. Questo è fondamentale. Tante volte noi ci sentiamo criticare, e io parlo di mercato italiano perché in America o in Inghilterra o negli altri mercati è stata molto più metabolizzata l'affiliazione e conoscono molto meglio il sistema. In Italia sostanzialmente ci dicono, come dicevo prima, grazie, voi vendete tanto, guadagnate tanto perché pagate e fate affiliati. In realtà questa è proprio sbagliato come concetto. Fare affiliazione bisogna mettersi in testa che non ti fa guadagnare nel breve periodo. Anzi alcune volte ti fa anche perdere. È una strategia. Bisogna essere coscienti di quello che si sta facendo. Io sto cercando di aumentare la brand awareness, sto aumentando la reach, sto cercando di far parlare del mio brand e attirare clienti che nel breve periodo non mi porteranno ricavi. Perché io sostanzialmente rigiro i miei guadagni a quello che è un affiliato. Dove sta la chiave dell'affiliazione? Nel ritorno del cliente che se io vendo servizi in abbonamento ricomprano l'anno dopo, che se vendo servizi che anche non sono in abbonamento riesco a vendere servizi terzi o collaterali. Quindi il guadagno non è alla vendita di adesso, è nel medio e lungo periodo. Serve per creare una relazione con il cliente. Questo è fondamentale ed è differente dall'essere affiliato dove il guadagno invece è subito. Quindi bisogna tenere conto subito di questo. Partiamo con delle considerazioni generali che sembrano sciocche ma non lo sono. Investi in un inserio programma di affiliazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io voglio creare un programma di affiliazione, posso farlo in due modi. Anche qui, molto banalmente, pagando o non pagando. Qual è la differenza? Io posso iniziare in autonomia spendendo veramente poco. Dopo vi farò vedere anche dei plugin WordPress. Ci sono plugin in versione light, diciamo, che sono gratuiti o comunque in versione premium che costano, diciamo, 50-100 euro l'anno. Quindi stiamo parlando di veramente pochi soldi. Qual è la fregatura, se vogliamo, che ci dovete mettere le mani voi? Quindi io posso creare un programma di affiliazione in autonomia, posso sfruttare i sistemi che WordPress mi dà. Il gioco qua però sta a... c'è un basso prezzo ma un alto costo in termini di risorse mie personali che, ossia, devo studiare, devo cercare di lavorare per far sì che il programma di affiliazione funzioni. Il secondo modo per attivare un programma di affiliazione, se non voglio avere, diciamo, problemi, problematiche, non voglio stare dietro alla cosa, esistono dei canali, dei network di affiliazione. Faccia, diciamo, il problema di questo sistema è il costo, perché questi network di affiliazione hanno un costo elevato. Quindi anche in questo caso bisogna sempre trovare un bilanciamento. Voglio arrangiarmi e spendere poco o voglio investire e far sì che gli altri gestiscano per me? Faccio un esempio pratico di un network di affiliazione, per esempio, che è uno forse più grande in Europa oggi, si chiama Awin, A-W-A-I-N. Loro hanno un network di affiliazione che credo che solo in Europa abbia 500.000 affiliati. Loro ti danno a disposizione un network del genere e ti dicono, tieni, questi...